Sei un neofita e vorresti avvicinarti al mondo del trading online. Da che cosa si dovrebbe iniziare? Sicuramente dai migliori testi, dai migliori manuali di formazione finanziaria che sono universalmente e trasversalmente riconosciuti in ambito mondiale. Sono libri di formazione manuali che hanno letto, studiato ed analizzato tutti i gestori di SGR, SIM, boutique finanziarie, fondi di investimento e così via discorrendo proprio perché rappresentano la Bibbia di settore. Partiamo pertanto con il primo, la prima Bibbia, l'analisi tecnica dei mercati finanziari. Martin Pring, attraverso questo manuale molto corposo, prolisso, difficile anche in tali casi da metabolizzare comprenderete i principi dell'analisi tecnica che è quella disciplina fondamentale per imparare a comprendere ed analizzare il grafico di qualsiasi strumento finanziario o strumento finanziariamente surrogato che viene negoziato sui mercati, sia regolamentati che non regolamentati. Secondo, Japanese Candlestick Charting Techniques, ossia la tecnica delle candele giapponesi di Steve Neeson. Io questo l'ho studiato, letto, studiato, analizzato più di vent'anni fa la versione in inglese, sono quasi 300 pagine. E' veramente istruttivo, penso sia una di quelle Bibbie che non possono mancare nella biblioteca, sia di un trader professionista ma anche di un retail investor, perché aiutano a formare il giovane speculatore finanziario o il giovane trader nell'apprendimento di quei pattern grafici che hanno una forte valenza, che sono ovviamente riconducibili all'utilizzo delle candele giapponesi e che consentono in determinati momenti di mercato e per determinati strumenti finanziari di individuare i tipici momenti di svolta o di incertezza che possono verificarsi sul mercato. Anche questo è un must, non solo da avere, ma ovviamente anche da studiare ed analizzare. Terzo, i principi delle onde di Elliot. Elliot, uno dei più grandi analisti, considerato uno dei più grandi analisti finanziari dello scorso secolo, aiuta a comprendere come si evolve generalmente un trend di largo respiro, quali sono i punti di svolta, perché ci sono le tre onde propulsive a cui controribattono due onde correttive, uno, due, tre, quattro, cinque, sono fondamentali proprio per riuscire a identificare la fase ciclica in cui si può trovare il mercato in un determinato momento quando è in sviluppo un trend. Anche questo, autore Robert Prechter, un'altra Bibbia che non può mancare, ovviamente molto prolisso, molto laborioso, molto, può essere anche pesante in tali uni casi, nonostante che i principi chiave di Elliot, tutto sommato, siano facilmente poi narrabili. Quarto, quarta Bibbia, questa è una mia personale, è un mio personale inserimento, il trading cosiddetto hit and run, mordi e fuggi, la Bibbia, come potete vedere, della speculazione finanziaria per i trader che operano con un time frame molto, molto contratti, molto brevi. Il libro è incentrato soprattutto sul riconoscimento di alcuni pattern, che sono molto, pattern grafici, che sono molto forti e quando si verificano, il mercato tende poi a dar ragione a quelle che sono le aspettative in relazione al pattern stesso, tipo i lizard e così via discorrendo, richiama in un certo senso parte del lavoro che è stato anche sviluppato da Steve Nison con la tecnica delle candele giapponesi. Ed infine passiamo all'ultimo, ossia i segreti del trading sia a lungo termine sia a breve termine di Larry Williams che è uno dei trader professionisti più noti, conosciuti a livello mondiale. Ricordo che quando iniziai io nel 99 era uno dei primi testi, uno dei primi libri che era dopo studiare, analizzare, leggere. Attenzione, tutti questi manuali, tutti questi volumi, io consiglio vivamente che siano acquistati in lingua inglese e studiati in lingua inglese, perché esistono anche delle varianti, non di Covid, ma varianti dei libri, dei manuali tradotti in lingua italiana, ma che sono compressi. Faccio un esempio pratico, la Japanese Candlestick di Steve Nison, la versione originale, sono circa 300 pagine in lingua inglese con anche una profusione e abbondanza di casistiche con grafici che spiegano per quale motivo quel pattern o quella configurazione di prezzo era significativamente rilevante. Se voi andate a prendere ad esempio la versione tradotta in italiano, le 300 pagine diventano sì e no 70-80, quindi c'è una comprensione degli argomenti. Il libro, essendo in italiano con 70-80 pagine, è anche molto più snello, ma c'è da chiedersi e le restanti 220 pagine che finiano fatto, come sono state compresse. Quindi, a mio modo di vedere, è un po' come, vedetela così, ritornando a quando si studiava alle scuole superiori, studiare sul testo di riferimento che si aveva per il programma didattico ed eventualmente puoi studiare sul cosiddetto bignami, solo che il bignami in tali casi non ti consentiva di superare un test scolastico se ti eri soffermato esclusivamente a quello. Ecco, in buona sostanza noi possiamo assumere questo medesima, per analogia, questo medesimo approccio. Se volete avvicinarvi dovete studiare quelle che sono le bibbie del settore, leggerle, rileggerle una seconda volta, concentrarvi, fare tanta attività mnemonica perché soprattutto con i pattern bisogna imparare a riconoscerli visivamente e graficamente anche se esistono oggi rispetto a vent'anni fa, ad esempio, dei software che in automatico li rilevano e li evidenziano sul grafico in tempo reale e quindi semplificano da questo punto di vista l'attività di ricerca e di discriminazione sia del trader che l'investitore retail e così via discorrendo. La maggior parte sono acquistabili in tutti i principali marketplace, online, ve lo dico già subito, sono libri che costano, cioè sono libri che possono arrivare a 70-80 euro senza contare le spese di spedizione. Per quale motivo? Perché i contenuti e la narrazione, le spiegazioni sono di elevato standing, sono da super professionista e dovete partire da quelli. Evitate pertanto tutti quei piccoli pamphlet, tutti quei piccoli manuali che girano in Italia, tradotti ovviamente in lingua italiana, che danno, sì, per carità una prima infarinatura, però se volete veramente comprendere di che cosa significa la speculazione finanziaria fulminia, il trading online, tutte le problematiche legate all'operatività nel quotidiano, soprattutto partendo dalle capacità di analisi e comprensione dei grafici ricorrendo all'analisi tecnica, questo è un passo, questo è uno step che non può, che deve essere assolutamente sdoganato, che deve essere evaso. Vi lascio in descrizione ulteriori link a clip in precedenza di educazione finanziaria che richiamano tanti altri temi sia di money management e portfolio management.